Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale e allora come facciamo di consueto i titoli in apertura per capire quali saranno gli argomenti che andremo ad approfondire. Oliviero Toscani, il Consiglio respinge una mozione per la revoca dell'incarico della regione. Cancella l'odio, è lo spot vincitore contro l'Hitspeech. Novembre è il mese del tartufo di San Mignato, torna alla mostra mercato. Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Vanna Marchio e la Meloni. Urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l'hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me. Queste le dichiarazioni rilasciate da Oliviero Toscani sull'esito degli ultimi risultati elettorali e finite in Consiglio regionale con una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci. L'atto propone la revoca dell'incarico che la regione ha affidato a Toscani per la realizzazione di un contesto fotografico rivolto alle donne. La mozione è stata respinta a maggioranza, contrari i consiglieri del Partito Democratico a favore i gruppi di opposizione e Italia Viva. Parole gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato dalla regione toscana di fare una campagna alla Toscana di Toscani all'interno di Benvenute in Toscana per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione. Evidentemente le due cose stridono, evidentemente questa cosa è gravissima per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni del Viva Toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria. Anche perché ci chiediamo, le donne che Toscani vorrebbe attrarre in Toscana sono tutte, escluso quelle evidentemente che hanno votato Giorgia Meloni, perché se sono, come lui ritiene, deficienti è evidente che la cosa non sta insieme. A noi abbiamo chiesto che il Consiglio regionale prendesse una posizione chiara su questo, come hanno fatto i Benetton quando Oliviero Toscani si espresse in maniera orribile sul crollo del Ponte Morandi. Cosa fece? Lo licenziarono. Noi chiediamo, abbiamo chiesto che la regione Toscana facesse la stessa cosa, ovvero revocasse l'incarico dato a Oliviero Toscani. Noi abbiamo trovato quell'atto, un atto condizionato da un pregiudizio che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto proprio per, come dire, sgonbare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani di separare le due parti. Cioè noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni. Ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili. Questa proposta è stata rifiutata. Riteniamo che ovviamente su questi temi si debba sempre cercare di trovare il più ampio consenso e soprattutto la più ampia convergenza. Noi avevamo dato piena disponibilità affinché si arrivasse a questo obiettivo. Probabilmente verrebbe da dire un osservatore esterno che la finalità magari dell'atto era un'altra e quindi su questo l'indisponibilità di chi ha presentato l'atto è stata totale. Indubbiamente una mozione che ho condiviso soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo e ha delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune. Questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto è accaduto sul Ponte Morandi. Ecco, noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla Regione Toscana. Nel tanto meno avere incarichi retribuiti. Si parla di 35 mila euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili bentornate in Toscana. Ecco, francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate e condannate anche dalla maggioranza. Così non è stato ed è stato invece un pessimo segnale anche di sostegno a tutte quelle donne che si impegnano in politica e che quindi insomma ci richiamano un po' al voler dire pari opportunità a parole ma quando poi si passano i fatti ecco tutto quanto cade nel vuoto. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese dalle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultati o vilipese sono le esponenti donne ma io metto anche uomini di altri partiti politici specialmente se sono rivolti dall'altra parte dell'arco parlamentare ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine della dignità delle persone donne e uomini lo ribadisco debba essere assolutamente trasversale e che la regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonio o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la regione toscana. Pensiamo soltanto che il messaggio, il progetto per cui Liviero Toscani è stato incaricato sarebbe quello di dare il benvenuto alle donne che visitano la Toscana e il benvenuto viene dato da una persona che però non ha nessun problema invece a insultare un esponente politico e dico questo con una visione completamente diversa da quella che ha l'onorevole Meloni ma riconoscendo a tutte le donne, a tutte le persone, a ogni essere umano la dignità di non essere insultato sull'aspetto personale ma di riuscire a partare lo scontro sul livello politico. Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai. Dopo le sue frasi sul ponte di Genova dove sono stati allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia delle vittime dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della Calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso. Oggi, un po' di tempo fa su un'intervista di un giorno a Pecora continua a offendere i politici italiani, gli elettori italiani, ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e paroli nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni, che è un leader, che veramente sono orripilanti. La usate nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo e le ha ribadite, la usate nei confronti di Giorgia Meloni, la usate nei confronti di Enrico Letta, la usate nei confronti degli elettori che scelgono di andare a votare in un momento in cui l'affluenza è sempre in calo e noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare. Troviamo un naif che si permette di offendere tutte e tutti andando in televisione. Credo che abbiano fatto bene i Benetton nel 2010 e nel 2020 a mandarlo via quando ha usato quelle frasi, credo che abbia sbagliato il Presidente della Regione Toscana ad affidare un incarico a una persona che usa quei termini, quei modi nei confronti degli elettori e nei confronti della politica. Abbiamo chiesto di revocare quell'incarico che costa 30.000 euro alla Regione Toscana, magari con quei 30.000 euro noi potevamo fare altre cose, il Partito Democratico ha scelto di tenere Oliviero Toscani, di dare una consulenza a una persona che si permette di offendere le donne e gli uomini, coloro che fanno politica, coloro che vanno a votare. Noi crediamo che non sia giusto. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale, questo è molto grave quanto è successo, c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori che non possono essere denominati così come sono stati appunto considerati in quella definizione e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni, è un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della Regione Toscana. Ma non è un segnale di Italia Viva contro la maggioranza, è un segnale di Italia Viva a favore delle cose che sono giuste, di buon senso. Ho visto molto imbarazzo nei colleghi e nelle colleghe del Partito Democratico a votare contro questo atto, è un precedente che segna un distinguo forte perché di solito il Consiglio regionale su questi temi ha sempre trovato l'unanimità nell'esprimere una condanna forte in chi utilizza dei termini discriminatori nei confronti dell'altro. Cancella l'odio è il titolo del video vincitore di Toscana in spot 2022, è stata infatti dedicata al contrasto al linguaggio violento, la nona edizione del bando del Comitato regionale per le comunicazioni. No Hate è infatti il tema individuato dal Corecom per il concorso con la finalità di contrastare l'Hate Speech. È una giornata bella, importante, in tanti hanno partecipato, permettetemi di ringraziare Enzo Broggi, il presidente del Corecom, per l'importante lavoro e per l'impulso che ha dato iniziative come questa. Noi durante abbiamo voluto dedicare la scorsa festa della Toscana, che è la festa dei diritti, proprio a questa battaglia, una battaglia culturale contro il linguaggio d'odio che spesso troviamo in rete. È bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte perché quello che accada, accada sempre meno. I ragazzi voglio mandare un messaggio, non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo e come il video che si aggiudica, il primo premio, termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio, credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione. Allora il compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte, di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio. I giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli, è stato difficilissimo selezionare i migliori, lo abbiamo fatto con fatica facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della regione toscana, del consiglio regionale naturalmente del core come della Toscana. Queste le parole di Mattia Pagni, autore del video vincitore. Pagni, classe 1996, è artista e creativo del teatro di Bo e dei pensieri di Bo. Le parole d'odio sono una componente che fa parte a questo punto della vita di tutti e tutti noi. Le parole sono come un filtro che si va a spiaccicare sopra i vetri che ci permettono di vedere quello che è fuori, quello che è il mondo e non ci permettono più di vedere quello che è di bello, che c'è di fuori del nostro mondo, che ci ritagliamo. Se noi avessimo la capacità, avessimo il coraggio di cancellare, di pulire queste macchie che vanno a formarsi sulla nostra maniera di vedere il mondo, riusciremo anche a vedere la bellezza che c'è dietro a tutto questo. Quindi ogni parola d'odio che diciamo, ogni commento, ogni giudizio va a limitarci, va a imprigionarci dentro l'odio, dentro la parte brutta del mondo. Il tartufo bianco, eccellenza del territorio di San Mignato, è il grande protagonista della 51esima edizione della Mostra Mercato che per tre fine settimana animerà il centro in provincia di Pisa. Le date sono quelle del 12 e 13 novembre, 19 e 20 novembre ed infine 26 e 27 novembre. La Toscana insieme al Premonte rappresenta un punto di riferimento, vi sono almeno 40 feste del tartufo in Toscana e San Mignato naturalmente è stata un po' la prima e contemporaneamente anche per le esportazioni, attraverso le trasformazioni che le aziende riescono a fare, si propone come riferimento del tartufo. Il tema scelto quest'anno è quello della sostenibilità ambientale. Faranno parte importante e sostanziale della mostra anche di diverse conferenze e anche un bel convegno che anticipa la mostra proprio sulla sostenibilità ambientale che avrà al centro il tartufo che da dicembre dell'anno scorso è stato riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità e anche perché vogliamo, e questo lo dico con molta convinzione, vogliamo proporre San Mignato come capitale toscana del tartufo, non tanto e non solo perché il tartufo bianco di San Mignato è ottimo, è speciale, ma anche perché a San Mignato si comincia a lavorare con congressi, studi, proprio per fare sì che il nostro tartufo sia conosciuto e che abbia il ruolo che secondo me merita. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, come sempre vi ricordo, Cronaca e Commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.